Linux è diventato così semplice da utilizzare che puoi fare praticamente tutto con applicazioni grafiche, comodamente usando il mouse. Eppure, se guardi i miei video, vedi che faccio praticamente tutto da linea di comando. E che sono masochista che non voglio usare le applicazioni più semplici. Oppure la linea di comando è qualcosa di più rispetto ad un ostica interfaccia degli anni 70? Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Come dicevo poc'anzi, sotto Linux puoi fare praticamente tutto utilizzando un'interfaccia grafica. L'unico vantaggio, e non da poco, che trovo nelle applicazioni con interfaccia grafica è quello che in inglese si chiama discoverability. Questa parola è un po' intraducibile, che se vogliamo forzare in italiano col termine scopribilità, significa che tu vedi cosa l'applicazione ti mette a disposizione e puoi scoprirne le varie funzionalità andando ad intuito cliccando su vari menu e bottoni. Tre grossi svantaggi delle applicazioni con interfaccia grafica sono Andare a spostarsi col mouse ed istedicarsi tra menu e bottoni è tutt'altro che efficiente. Un dato tra i sistemisti Unix di vecchia data è che 10 dita corrono molto più veloci di un mouse. Sei limitato a fare quello che l'interfaccia ti offre e nulla di più. Capirei cosa intendo con questo quando in un prossimo video vedremo il concetto di pipe. Non puoi automatizzare le operazioni che fai con l'applicazione e questo lo potrei apprezzare quando vedremo lo scripting in un prossimo video. Ma bando alle ciance e veniamo subito alla pratica utilizzando la nostra fidata Ubuntu Mate. Se hai una distribuzione diversa da Ubuntu non ti preoccupare, in questa serie di video cerco di mostrarti i comandi ed i concetti che valgono per tutte le distribuzioni. E se qualcosa cambia tra una distribuzione ed un'altra cerco di dirtelo. Altra cosa, parto dal presupposto che tu stia utilizzando la shell Bash, che è quella installata di default su tutte le distribuzioni. Ok, quindi per la linea di comando puoi avviare un terminale dall'applicazione preinstallata sul desktop, ovviamente. Ma puoi anche passare ad un terminale in modalità testo premendo i tasti CTRL ALT e un tasto tra F1 e F7. Premiamo per esempio CTRL ALT F3 e vedi che ci troviamo sul terminale TTY3. A questo punto basta inserire username e password ed ecco che abbiamo la nostra bella linea di comando pronta. Quando inserisci la password sembra che non succeda nulla, non compaiono nemmeno degli asterischi al posto di quello che digiti. Questo comportamento è normale e giustificato dal fatto che se c'è qualcun altro nella stanza con te che sta guardando il monitor, non riesce a capire di quanti caratteri è composta alla password. Usare una linea di comando in modalità testo può servire nel caso che, per esempio, l'ennesimo aggiornamento di Arch Linux non ti fa più partire l'ambiente grafico e per poter far tornare il sistema ad essere utilizzabile devi fare login in un terminale in modalità testo e dare il comando di tornare indietro con l'aggiornamento. Non che mi sia capitato di recente. Ad ogni modo, torniamo al nostro bel ambiente grafico premendo CTRL ALT F7. Su altre distribuzioni l'ambiente grafico potrebbe trovarsi su un TTY diverso dalla 7. Per esempio, su Fedora l'ambiente grafico si trova sul TTY 2 e quindi ci accede premendo CTRL ALT F2. Quello che vedi si chiama PROMPT e sebbene sia personalizzabile, di norma trovi lo username con cui sei logato, in questo caso free, lo surname di questa macchina, in questo caso ubuntu, la directory corrente, in questo caso tilde, cioè la mia home directory, e poi il simbolo dollaro che sta a significare che sono un utente diverso da root. Il primo e più usato comando tra tutti è ls, che elenca tutte le directory e tutti i file contenuti all'interno della directory corrente. Ok, in realtà non stai elencando proprio tutti i file contenuti in questa directory. Non stai elencando i file nascosti. Sotto Linux un file è nascosto se il suo nome inizia col carattere punto. Per elencare tutti i file compresi i nascosti, devo passare l'opzione "-a", al comando ls. Esiste una convenzione, originaria dell'utility GNU, ma poi adottata anche da quasi tutti i programmi linee di comando, dove esistono opzioni corte, definite da un trattino ed una singola lettera, come per esempio l'opzione "-a", che abbiamo visto poc'anzi, ed esistono anche opzioni lunghe, che iniziano con due trattini, e contengono una o più parole separate da trattini. Per esempio, l'opzione lunga equivalente di "-a", per il comando ls, è "-all", e vedi che il risultato è lo stesso. Un'altra opzione usatissima per il comando ls è "-l", che mostra i vari dettagli di ogni file directory. Le varie opzioni dei comandi si possono anche combinare, quindi posso mostrare i dettagli anche dei file nascosti, utilizzando sia l'opzione "-a", che "-l", separando entrambe le opzioni con uno spazio. Per combinare le opzioni corte, esiste anche una scorciatoia, cioè usare un solo trattino e poi subito tutte le singole lettere delle opzioni che vuoi combinare. Quindi questo comando può anche essere scritto così. Puoi anche mischiare opzioni corte e lunghe in questo modo. A questo punto tu ti starei domandando, ma come fai a sapere quali opzioni esistono per i vari comandi? Per convenzione, per la stragrande maggioranza dei programmi a linea di comando, esiste l'opzione "-menohelp", che mostra un riassunto delle opzioni possibili. Visto che questo comando ha generato molto più output di quanto sia in una singola schermata, occorre scorrere in su. Ora, se il tuo terminale ha una barra di scorrimento puoi usare quella, ma non tutti i terminali ce l'hanno, oppure puoi scorrere utilizzando la rotellina del mouse. Però avevamo detto che 10 dita corrono molto più veloci di un mouse, quindi usiamo la tastiera. Esiste una combinazione di tasti universale che funziona praticamente ovunque per scorrere indietro, con Shift Page Up e per scorrere in avanti con Shift Page Down. Una volta queste combinazioni di tasti funzionavano anche con le console in modalità testo, ma nelle versioni recenti di kernel questa funzionalità purtroppo è stata rimossa. In un prossimo video, quando vedremo le pipe, vedremo un altro modo più comodo per scorrere l'output dei programmi. Oltre all'opzione Meno Meno Help, per avere una spiegazione più dettagliata sul funzionamento dei vari programmi, esistono le cosiddette Man Pages. Le puoi consultare usando il comando Man, seguito dal nome del comando che ti interessa. Per andare su o giù, basta premere le frecce su o giù, oppure i tasti Page Up e Page Down. Per uscire da Man, basta premere il tasto Q. Un altro concetto fondamentale della linea di comando è che è fatta per persone tigre. Quindi ci sono delle scorciatoie che ti permettono di non dover stare a premere troppi tasti per formare delle linee di comando chilometriche. Per esempio, se premi i tasti freccia su e freccia giù, puoi anche andare a ripescare i comandi che hai scritto in precedenza. E a differenza di DOS e Windows, i comandi scritti in precedenza vengono ricordati anche dopo essere usciti dal terminale corrente e addirittura anche dopo aver spento i riacciondati. Ho sceso il computer. Notiamo dall'output del comando ls-al che ci sono due directory con un nome strano, punto e punto punto. Punto è una scorciatoia che indica sempre la directory corrente, cioè la directory nella quale ti trovi in questo momento, mentre punto punto indica sempre la directory superiore rispetto a quella corrente. Facciamo un esempio. Per sapere con esattezza in che directory mi trovo in questo momento, devo dare il comando pwd che sta per print working directory e vedi che mi trovo in home free. La directory punto in questo caso è una scorciatoia per indicare home free, mentre la directory punto punto in questo caso è una scorciatoia per indicare home. E veniamo al secondo comando più utilizzato tra tutti, che è cd e serve per spostarmi in un'altra directory. Semplicemente scrivo cd seguito dal nome della directory dove mi voglio spostare. Se per esempio voglio spostarmi nella directory documenti, basta scrivere cd documenti. Visto che sono pigro però, non ho voglia di scrivere la parola documenti per intero. Allora inizio a scrivere le prime due o tre lettere e poi premo il tasto tab. Così facendo la shell mi completa in automatico il nome del file della directory. Questa comodissima funzionalità è uno dei motivi per i quali è possibile essere velocissimi con la linea di comando. Ora, già dal prompt vedi che mi trovo nella directory tilde barra documenti e ti ricordo che tilde è una scorciatoia che sta ad indicare la mia home directory. Ripetiamo il comando print working directory e vedi che in effetti mi trovo in home free documenti. Questo significa che la directory punto ora è diventata home free documenti, mentre la directory punto punto ora è diventata home free. Ok, ora mi voglio spostare nella directory etc, quindi scrivo cd barra etc e già dal prompt vedi che mi trovo in etc. Come faccio a tornare nella directory dove mi trovavo in precedenza? Basta dare il comando cd meno e vedi che sono tornato nella directory documenti. Se do cd meno un'altra volta, ecco che torno nella directory etc. E se volessi tornare nella mia home? Se hai risposto cd tilde, bravo, sei stato attento e questo comando funziona, ma c'è un modo ancora più veloce per tornare nella home. E si tratta di dare il comando cd senza nessun argomento. Per concludere questo video ti faccio vedere due casi particolari, uno più comune e l'altro grazie a dio molto meno. Vedi che ho una directory che si chiama io contengo spazi. I nomi di file che contengono spazi sono balordi, perché come abbiamo visto il carattere di spazio è quello che separa i vari argomenti dalla linea di comando. Quindi abbiamo bisogno di un modo per dire che gli spazi all'interno del nome del file fanno parte dello stesso argomento. Se proviamo ad applicare il completamento col tasto tab, vedi che ho fatto precedere ogni carattere di spazio dal backslash e questo è uno dei modi per utilizzare file con nomi lunghi sotto Linux. Un altro modo invece è quello di racchiudere il nome del file o della directory tra singoli o doppi apici. Come vedi tutti e tre i modi funzionano, ma visto che ci sono delle sottili differenze tra questi tre modi, che magari vedremo se in futuro affronteremo certi concetti di scripting, io ti consiglio di racchiudere i file che contengono spazi tra singoli apici. Poi, se vuoi usare i doppi apici perché questo funziona anche su Windows, fai pure. Nel 99% dei casi non fa nessuna differenza. L'altro caso particolare è se un file o una directory inizia con il carattere trattino. Abbiamo visto che il carattere trattino iniziale è caratteristico delle opzioni. Per esempio nel comando ls-al, il-al sono le opzioni, non un nome di file. Quindi come faccio a distinguere una serie di opzioni da un nome di file che inizia per trattino? Lo standard dell'utility GNU dice che puoi dare come argomento due trattini da soli e tutti gli argomenti successivi non verranno trattati come opzioni. Seguendo questo standard, quindi, possiamo scrivere cd-trattino-trattino-inizia-contrattino. E siamo certi che trattino-inizia-contrattino non verrà trattato come serie di opzioni, ma come i nomi dei directory dove vogliamo spostarci. Io concluderei qui questo primo video. È stato un po' lunghetto, ma ci tengo che sin da subito impari ad essere pigro ed utilizzare le scorciatoie appena puoi. Nei prossimi video andremo più spediti, perché avrai già delle buone basi da cui partire. Per concludere una sessione a linea di comando, premi Ctrl-D. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! L'ennesimo di aggiornamento... ... ... ... ... ...